Ciao a tutti, sono Matteo dalla Di Mani Mano di Cambiago, benvenuti o bentornati per chi ci ha già seguito alle nostre novità settimanali. 12 articoli che andranno in pubblicazione dalla prossima settimana. Vi ricordo i miei contatti 351 690 4263 o assistenza clienti chioccioladimanimano.it Vi ricordo anche che tutti gli articoli che vedete sono già acquistabili, contattandomi. E partirei, oggi mi hanno chiesto di fare il modello perché questa giacca non è mia, ma è una giacca di Burrich che abbiamo nella nostra sezione di abbigliamento. Velocemente vi faccio vedere che ha 4 tasche esterne e 2 interne che vedremo dopo, è una giacca in nylon mezza stagione e visto che però qui non fa così caldo, così freddo, la appenderei qua. Eccola, l'abbiamo fatto vedere il marchio Burrich e si intravede già il suo costo che è di 70 euro. L'appendiamo qua, dove? Sul nostro secondo articolo, che appunto è questo appendi abiti anni 60 a colonna in metallo smaltato e cromato. Come metteremo poi nella descrizione che potete leggere sul sito, è andato disperso il piatto porta ombrelli. Infatti Giada ci sta facendo vedere che non c'è, ma direi che dopo tutti questi giorni di pioggia che ci aspettano anche per Pasqua e Pasquetta non pioverà più fino a settembre, quindi tranquilli. Le misure sono 187 di altezza, 44 di larghezza e 44 di profondità e il suo prezzo è di 240 euro. Ci riprendiamo la giacca perché ci servirà appenderla nel nostro prossimo articolo. Ricordatevi di iscrivervi al canale per seguire i nostri video, le nostre novità e di mettere un like se vi piace questo video. Tornate a casa dal lavoro, dove appendo la mia bella giacca di Burrich? In questo mobile armadio anni 50. Ecco qua, facciamo vedere anche gli interni. Appunto mobile anni 50, di produzione italiana ad antebattenti, in legno, in piallacciato mogano. Vi facciamo solo vedere qualche piccolo particolare. Per appendere le vostre cravate, questi bellissimi cassettini col fronte in vetro. Questo mobile ha un prezzo di, passo davanti, 1200 euro. Le sue misure sono 182 di altezza, 255 di larghezza e 57 di profondità. Passiamo al nostro quarto articolo, che è questo bellissimo Comò barocchetto. Ci troviamo in Italia, Emilia Romagna nello specifico, nella metà del XVIII secolo, quindi 1720-1770. È sorretto da gambe mosse, terminanti con piedi caprini. Presenta fianchi e fronte mossi ed è dotato di due cassetti. È in noce con interni in pioppo. Le misure sono 87 di altezza, 120 di larghezza e 52 di profondità e il suo prezzo è di 1200 euro. Ho pensato, da questo video, poi anche i successivi, di inserire qualche membro della cooperativa per farvi conoscere un po' il volto di chi lavora. E oggi abbiamo qui un professionista del settore antiquariato. Ciao a tutti, io sono Giacomo e sono un restauratore di antiquariato. Qui abbiamo un pezzo molto molto bello. Purtroppo però le condizioni non sono eccezionali. Anche se gli interventi possono riportare un po' all'antico splendore questo pezzo. Principalmente c'è da sistemare un po' lo scorrimento dei cassetti. Quindi c'è tutta una parte funzionale che è da sistemare e anche un po' la stabilità. Come vedete le gambe sono molto affini, molto eleganti. Questo però ovviamente causa dei problemi di fragilità. Si andrà quindi a intervenire sul consolidare queste gambe e inoltre sistemare anche il fianco laterale. Qua probabilmente si dovrà mettere un filetto. Per quanto riguarda invece il piano e la lucidatura, la patina è molto bella. Bisognerà quindi semplicemente farlo un po' rinvenire. Si dice in gergo riprendere la lucidatura. E si dovranno semplicemente anche pulire i vari bronzi. Un altro intervento, quello però ovviamente a discrezione del cliente, è la sostituzione della carta. Come vedete la carta di Varese è stata messa molto tempo fa, è ingiallita, ci sono delle macchie. Si può andare tranquillamente a rimuovere e a sostituire. Abbiamo anche un buon catalogo. A mio avviso un restauro su un pezzo del genere è un investimento che si può fare e riporterebbe anche valore al pezzo, oltre al valore che ha già di suo per l'antichità. Ok, questi erano tutti gli interventi che si possono fare su questo bel mobile. Io vi saluto e passate a trovarci. Passiamo al nostro prossimo articolo, presentandovi questa ribalta inglese dell'inizio del XIX secolo. È in condizioni buone, probabilmente restaurata dal precedente proprietario. Si può vedere comunque anche, ad esempio, dalla situazione della carta interna. Facciamo vedere questi lunghissimi cassetti. E vediamo una veloce descrizione. Allora, sorretta da piedini a mensola. Eccoli qua. Presenta tre cassetti, più tre nella fascia superiore. Sormontati da un'anta ribalta. Celante scarabattolo con piano scrittorio. Adesso lo apriremo. Cassettini e vani portadocumenti. È in noce, con interni in quercia. Eccola qua. Le sue misure sono 104 di altezza, 112 di larghezza e 55 di profondità. Il suo prezzo davvero interessante è di 680 euro. Cambiamo completamente stile e passiamo a questo armadio barocchetto veneziano del XX secolo. Lo apro così, facciamo vedere anche gli interni. Vi dicevo appunto, XX secolo, sorretto da gambe a ricciolo. Sul fronte presenta una parte centrale con cassetto, sormontato da anta con specchio e due ante laterali. È interamente laccato, con cornicette dorate e decorato con motivi floreali. Le sue misure sono 253 di altezza, 227 di larghezza e 80 di profondità. Il suo prezzo è di 980 euro. Gira, 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 scegli gli sgabelli. Ecco Giada che si è prestata a roteare, ma adesso vi presentiamo questo articolo. Che è una coppia di sgabelli di Alfredo Cavestri. Importante ditta milanese, come riportato nell'etichetta sulla seduta. Già che vi stiamo facendo vedere gli sgabelli, vi mostriamo che la seduta è connessa da una vite che consente appunto di regolarne l'altezza o di roteare e giocare come stava facendo Giada. L'altezza è di 55, il diametro della seduta è 38 e il prezzo per la coppia è di 430 euro. Ci troviamo in negozio per il nostro prossimo articolo che del vero non è singolo, ma sono sei miniature iraniane dipinte su carta della prima metà del 1900. Raffigurano sei personaggi maschili intenti in attività differenti. Le figure sono iscritte in una cornicetta cartacea applicata mentre le cornici sono in stile. Le misure di ogni miniatura è 33 cm per 21 e il prezzo di tutto il lotto è di soli 300 euro. Già che siamo qui in negozio, Giada, ci spostiamo nell'altro teatrino per vedere questo mobile bar in stile chinoiserie. Eccolo qua. Del XX secolo, sorretto da gambe mosse, dorate e poggianti su pianetto laccato. Il grembiale è intagliato con motivi di gusto barocchetto e dorato. Il corpo presenta due ante, è laccato e dipinto con paesaggio e figure. È di gusto chinoiserie, come si può evincere appunto dalle raffigurazioni. E all'interno troviamo un vano con specchi e cassettini che adesso, eccolo qua, ha fatto il fai da te, Giada. Scusate il taglio del video, ma non riuscivamo a capire come si apriva. ecco qua. Era giusto per farvi vedere gli interni con anche questi bei cassettini. E per dirvi che il suo prezzo è di 930 euro. Mi sono messo bello comodo per uno degli ultimi articoli di oggi che è questa coppia di poltrone italiana anni 60. L'imbottitura è in espanso e il rivestimento in tessuto. La base invece, come ci sta mostrando Giada, è in alluminio. Sono state completamente restaurate dal nostro laboratorio, quindi sono pronte da mettere in casa. Le misure sono 82 di altezza, 78 di larghezza e 90 di profondità e l'altezza della seduta è 40. Vi ricordo, dato che abbiamo parlato di restauro di tessuto, che potete tranquillamente selezionare una delle nostre poltrone e sedie e scegliere un tessuto di vostro gradimento e penseremo a tutto noi. Vi daremo il prodotto finito. Passiamo al prossimo articolo che è questo meraviglioso tavolo di design disegnato da Carlo Scarpa per Simon. È un tavolo prodotto dal 1968 e realizzato con una struttura in acciaio con distanziali in ottone e un grande piano in cristallo. L'altezza è di 72, lunghezza di 306 centimetri e profondità di 102. Il suo prezzo è di 7800 euro. Per oggi siamo giunti alla fine. Visto che vi vedo molto tristi per questa notizia, ho preparato una sorpresina, ovvero un tavolo che troverete nelle nostre occasioni sul sito. Questo è un tavolo anni 50, completamente restaurato dai nostri laboratori, in legno di faggio, in piallacciato mogano e il tutto tinto in ciliegio. Ha un bellissimo piano in vetro e proponiamo questo tavolo dal suo prezzo di listino di 1800 euro a 1080 euro. Se volete trovare le altre occasioni, scorrete la nostra pagina del sito e troverete tutti gli articoli scontati dal 15 al 50%. Vi ricordo, dal 6 aprile a Milano inizierà un'esposizione di mobili di antiquariato a cui seguirà un'esposizione di mobili di modernariato. Vi aspettiamo per questo bellissimo evento. Vi ricordo i miei contatti 351-690-4263 e assistenza clienti chioccioladimanoinmano.it Alla prossima, ciao!